salve a tutti ragazzi ben ritrovati nel canale del boss e gauche io sono il boss e oggi andremo a vedere un nuovo episodio di star wars battlefront come funziona questa modalità questa modalità si chiama eroi contro malvagi in cosa consiste avremo una squadra di eroi e ovviamente una squadra di malvagi composta da una da ian solo duke skywalker e leia mentre l'altra da boba fett dart feather e palpatine la storia funziona che cioè la storia questa modalità funziona come che tutti gli eroi o tutti i cattivi in base alla squadra che siamo devono essere sconfitti quindi cosa succede in questo caso quando ho giocato con ian solo ovviamente non sto giocando non sto parlando in live prima di stato e adesso ne sto parlando in questo caso dobbiamo sconfiggere tutti gli eroi malvagi quelli boba fett eccetera 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 il prima la prima squadra che riesce a sconfiggere tutti e tre gli eroi della rispettiva squadra scusate dell'altra squadra ha vinto e il primo che arriva alla meglio delle 10 se non mi pare il primo che arriva a 5 praticamente 5 a 0 6 a 0 eccetera eccetera cos'altro di in questa modalità oltretutto niente ovviamente il tipo chi diventa eroe chi non lo diventa è completamente randomico e alla fine la conclusione diciamo di tutti i round di chi ha vinto e chi ha perso ecco che le squadre si scambiano quindi chi prima faceva parte della squadra degli eroi buoni torni diventa ancora dei eroi malvagi e viceversa altra novità diciamo di star wars battlefront è cosa che questo è l'ultimo video che vedrete di star wars battlefront perché perché abbiamo provato io signor gosh a giocare a giocare le altre modalità diciamo quelle che rimanevano e abbiamo constatato che effettivamente fanno cagare oddio non è che fanno cagare alcune sono più simpatiche di altre però le altre veramente non vale la pena portarle sul canale perché o sono noiose o comunque sono poco interattive già questa non è bellissima da seguire calcolate che ho tagliato ogni volta che non giocavo con gli eroi o con i malvagi quindi sì e nient'altro io ragazzi per questo per ora non ho finito non è altro da dirvi sapete che ovviamente questa è l'ultima modalità che porteremo di star wars battlefront magari più avanti fra qualche giorno barra anche mese potrebbe essere lo riporteremo di nuovo sul canale e magari riusciremo a giocare online sia con signor gosh sia con altri nostri amici da qui è tutto vi saluto ci vediamo alle prossimi episodi anche di altre serie un saluto a tutti da parte mia e da parte del signor gosh grazie